...cazzoli Lorenzo, Lambertini, Silvia, Unione Polisportiva Persicetana, si preparino Mazzini e Nanni. Grazie per la visione! 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 Giulia, punteggio, contenuto tecnico 7 e 7, 7 e 6, 7 e 9, 7 e 9, 7 e 6. Contenuto artistico 7 e 7, 7 e 8, 7 e 7, 7 e 4. Grazie per la visione!